Ciao a tutti, oggi sono molto arrabbiato. Siamo al quarto piano del Palazzo dei Gruppi Parlamentari alla Camera dei Deputati. Passando per il terzo piano, il piano del PD, ho notato che la loro sala dove si riuniscono è intitolata a Berlinguer. Vi rendete conto? Berlinguer parlava di questione morale, ora vi racconto cosa è successo. 1994, l'unità S.P.A., il giornale dei PDS, oggi va in liquidazione. Dal 1998 al 2000 iniziano a indebitarsi sempre di più, nonostante tutto ricevevano fondi e andavano in debito per più di 5 milioni di Euro. Cosa accade? Accade che il report durante una sua inchiesta giornalistica tira fuori un documento che fa parte dei documenti contabili del 2002 dei DS, quindi un documento assolutamente ufficiale, nel quale c'era scritta questa frase. Si richiede un intervento politico per trasferire il debito del partito allo Stato. Quindi queste persone chiedevano un intervento alla politica per non pagare i propri debiti. I debiti accumulati con che cosa? Con la pubblicità al partito, perché l'unità, lo sapete bene, che fa solo ed esclusivamente pubblicità alla sinistra. Ve lo ricordate la prima pagina dell'unità? Grillo contro i terremotati, disinformazione pura. Ecco, facevano debiti su debiti e poi il report va a intervistare sposetti, perché ad oggi si scopre che questo debito non è più in capo al PDS, poi DS, poi Partito Democratico, ma bensì lo sapete in capo a chi è? Alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi in capo a voi, in capo a noi, in capo a tutti i cittadini italiani. Perché? Perché questi furbetti e sposetti con una faccia tosta, vi consiglio di vedere il servizio paga pantalone di report, a un certo punto dice, eh, ma la presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato le garanzie. Se lei dà le garanzie a sposetti e poi sposetti non paga, lo sa che vengono a cercare lei? Con una tranquillità tale, proprio identica all'atteggiamento che aveva Berlinguer ai tempi, proprio identico, la questione morale dentro questo partito non esiste. Le banche cosa fanno? Giustamente chiedono alla presidenza del Consiglio dei Ministri, mi scusi Presidenza, noi abbiamo 100 milioni di debito perché poi non hanno più pagato le rate. La presidenza del Consiglio cosa risponde? Ma perché non aggredite i beni immobili del partito? Ma sapete cosa hanno fatto? Hanno preso i beni immobili del partito, che valgono quasi 500 milioni di euro, hanno costruito delle società DOC rispettando la legge, perché ci sono delle norme che permettevano di fare questa azione, hanno trasferito questi immobili in capo ad una fondazione, poi a una società immobiliare e oggi la presidenza del Consiglio nonostante il partito abbia degli immobili stornati ad altre società non li può aggredire. E in più la storia si infittisce ancora, perché a un certo punto Bersani con l'unità in crisi chiama un certo imprenditore, Mian, che a quanto pare ha milioni e milioni di euro derivanti da uno scudo fiscale e gli chiede un aiuto facendolo diventare socio di maggioranza nell'unità, versando 9 milioni di euro. Questa persona aveva la società alle Bahamas, non dico niente, e alla telefonata dice potete venire, mandami qualcuno qua Bersani, altra cosa molto strana. In più chiedeva uno spazio televisivo, in cambio a questo suo versamento, all'interno delle reti pubbliche? Ancora ad oggi né Bersani e né Orfini hanno smentito questa notizia. Dove è finita la questione morale?